Tutti ad Ascea pensavano che Antonio Domenico Mancusios facesse parte della schiera dei cilentani emigrati all'estero e poi tornati nella loro terra natia. Almeno fino a domenica sera, quando il servizio trasmesso dalle Iene ha svelato l'identità di quest'uomo, un pericoloso terrorista, ricercato numero uno in Colombia per numerosi crimini e da tempo rifugiato in Italia, nel Cilento appunto. Nel suo paese è infatti accusato di aver commesso ai vertici dell'organizzazione paramilitare durante la guerra civile che per oltre 40 anni ha insanquinato la Colombia numerosi crimini, tra cui oltre 132 omicidi. L'abbiamo visto tante volte in giro eppure non avremmo mai immaginato che potesse essere un pericoloso terrorista, dice chi in questi mesi ha incrociato più volte il suo sguardo, uno tra tanti insomma, prima che andasse in un del servizio televisivo. A fare la spesa o altre commesse in giro, una vita normale, del resto domenico Antonio, che anche la cittadinanza italiana è un cittadino libero nel nostro paese, non essendoci un trattato tra Italia e Colombia per l'estradazione dei ricercati verso i rispettivi paesi. Dal 1992 è iscritto nel registro dei residenti all'estero del comune di Casalvelino, altro borgo occidentano, a due passi proprio da Ascea, dove il 54enne ha invece dimorato negli ultimi anni. Una villetta in una traversa, due passi dal mare nel cuore di Marina di Ascea, ma oggi già non c'è più, o almeno così ci dicono da queste parti, è andato via perché non si vede già da diversi giorni. Dopo l'arrivo delle Iene è andato via, raccontano nel territorio asceoto. Vi posso però assicurare che lui è stato qui e che nella nostra zona vivono suoi parenti. È assai probabile, infatti, che dopo l'arrivo dell'inviato del programma di Italia 1, Luigi Pelazza, avvenuto nelle settimane scorse, Mancusi abbia fatto le valigie in cerca di un'altra destinazione, proprio come Cesare Battisti, arrestato poi in Bolivia, dopo anni di latitanza in Sud America. Magari alla ricerca di un altro posto tranquillo dove poter ricominciare a passare inosservato, nonostante su di lui penda un mantato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Bogotà. Grazie a tutti.